Per quanto riguarda la nostra questione del cementificio di Sapri, eccoci con il sindaco del medico per quelle che sono i provvedimenti più stringenti. C'è stata una svolta in questa vicenda, un lavoro che dura ormai da quasi tre anni, finalmente ci siamo, la proprietà ha condiviso la necessità di abbattere la struttura e che per l'abbattimento lo farà direttamente la pubblica amministrazione in danno della proprietà perché è arrivato il tempo di liberare questa città da questa struttura che incompe ormai da oltre 40 anni. Credo che l'amministrazione ha fatto davvero un lavoro straordinario e penso che il giorno in cui la nostra Baia, ma tutto il Golfo di Policastro sarà liberato da questa struttura sarà un giorno storico, sarà un giorno che naturalmente ricorderemo per lungo tempo. Tempi di realizzazione per la demolizione del cementificio? I tempi sono strettamente tecnici, sono quelli per la definizione del costo di abbattimento e per l'indizione della pubblica gara per l'affidamento del servizio a ditta specializzata. Onestamente credo che prima dell'estate prossima la nostra Baia sarà privata di questo mostro che incombe, come dicevo prima, da un bel po' di anni. Ma tutto questo naturalmente ha richiesto un impegno straordinario ed è stato determinante ovviamente l'impegno anche di tutte le associazioni, associazioni ambientaliste, lega ambiente, oltre il Golfo. Tante azioni che hanno messo pressione sulla proprietà e che hanno consentito all'amministrazione di mantenere ferma la posizione. Prima si demolisce la struttura e poi si ragiona del futuro dell'aria.